Grazie a tutti. Il Pescara, diciamo, un po' imbucandola centralmente, tutti i gol sono nati, quasi tutti, perlomeno la posizione generale e niente, abbiamo fatto una partita bella, una vittoria importante. Il Pescara, qualche pallina antico, ci ha creato qualche pericolo, ma era anche normale venire qui in un momento delicato. Sempre mi faccio trovare pronto e faccio il possibile per mettere il mister in difficoltà. Sì, 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 ho giocato alto di destra e è andata bene. Sì, diciamo, perché il risultato per il risultato, ma è sempre difficile affrontare delle squadre così importanti. Oggi non è sembrato molto difficile. All'inizio, poi è andato tutto in discesa, ma se restiamo sempre umili e concentrati possiamo fare bene. Il primo gol è per la mia nipotina che è nata stamattina e l'altro per mio padre e la mia ragazza e tutta la famiglia.